Una rete di gioielli, Ramesh Balzacar, 12 agosto, mattina. La più grande illusione dell'uomo di felicità e tristezza non si fermerà mai se non attraverso l'apprendere da parte della mente, di non agire se stessa. C'è un processo di pensiero che viene direttamente dal vuoto. A livello ultimo tutto viene dal vuoto. Ma c'è anche un processo di pensiero che è una continuazione del pensiero che lo procede. Potresti dire che uno è un pensiero fattivo. Credo che Ramesh lo chiamava come la mente pratica che funziona. La mente fattiva funziona in modo tale che è in linea con le circostanze del momento. Se il corpo fa qualcosa, in particolar modo se lo fa per la prima volta, la mente fattiva entra in essere molto di più in quel momento piuttosto che dopo, quando hai già imparato, a fare quella stessa cosa. lo sai quando impari a guidare l'auto, l'uso della mente fattiva all'inizio. Dopo, quando sai già guidare l'auto, non entra neppure in essere. Ha integrato ciò che hai imparato nella struttura cellulare del corpo. È possibile anche guidare una macchina senza aver imparato, ma non andrò in questo. ciò che in genere accade è che il corpo si trova in una serie di circostanze che forse sono simili a un momento precedente. e quindi forse sorgono delle memorie perché c'è una similitudine tra l'esperienza del passato e quella del futuro. quello di per sé va bene, del tutto naturale. quello che non è naturale e è totalmente dipendente dalla sensazione di essere separati è la storia che viene da quella memoria. per esempio, se io guardo questa stanza che è più facile quando le luci sono spente posso guardarle e dire ah, mi ricordo di quel giorno in cui c'è stata quella terribile tempesta di neve. e posso avere un'immagine di quando vado in quel campo con i miei due cani e siamo andati in cerchio per circa tre ore alla ricerca della strada. ok, se si ferma qui quella è solo la mente fattiva che si riferisce a un momento del passato. quando invece viviamo nel senso di separazione non si ferma lì. tutti i due cani sono morti ah, i due cani sono ora morti erano dei cani bellissimi 30 minuti dopo arrivano i freddi e pensi dove sono stato? sono seduto in una stanza molto bianca in Toscana io non ho mai notato la presenza di questa stanza negli ultimi 30 minuti ho notato appena la presenza di questa stanza quella è ciò che viene chiamato mente psicologica la mente psicologica è sempre cercando di trasferire qualcosa al separato, al me che si sente che è missing la mente psicologica cerca sempre di nutrire al me qualcosa che sembra mancare quando il me cade c'è solo questa stanza e semplicemente sorge la memoria di come è simile questo momento a quello in cui mi ero perso nella tempesta e tutto questo accade solo in questa stanza non c'è più il venire trasportato nella storia psicologica questo fa un numero di cose e questo fa un numero di cose lascia il corpo disponibile all'immediatezza all'immediatezza di quello che accade nel momento se tu cerchi di uscire da una storia che andrebbe avanti ancora per quindici minuti perché la stanza sta andando a fuoco sentirai del panico e non ho mai visto delle cose sensate venire fuori dal panico se la stanza va al fuoco ora e c'è solo la consapevolezza del momento il corpo probabilmente si alza e esce da quella porta e poi si rompe una gamba perché salta giù dalla veranda c'è un incredibile vantaggio in un certo senso quando sei presente senza andare nella mente psicologica ecco cosa dice Ramesh quando la mente vede attraverso le proprie storie la mente non è un problema non c'è una richiesta di strizzare la mente o metterla sullo sfondo in qualche modo è la mente stessa che deve comprendere le sue stesse limitazioni e lo fa una volta che sai ciò che precede la mente fino a che non riposiamo nel ciò che precede il gioco della mente tutto quello da cui dobbiamo agire o da cui partire è solo altra mente perché la mente è in costante movimento se tu cerchi di bilanciarti dal due pensieri uno a destra e uno a sinistra sarai in costante movimento in effetti non ce la farai il tuo bilanciamento è immediato quando riconosci che cos'è che precede la mente allora quello che accade in un periodo di tempo come dicevamo ieri parlavamo di questa sensazione di espansione e contrazione noterai di nuovo in modo naturale quando è che la mente va nella sua storia psicologica ne senti la contrazione e l'intero corpo non ama quella sensazione in modo naturale non gli piace perché non è la tua sensazione naturale è una sensazione che dipende fin dal principio e dal concetto di essere separati quindi quello che accade quando vai nella storia quando vedi che tu sei ciò che precede la mente e che intuisci e senti quella contrazione prima la mente ti diceva aspetta ancora 5 minuti e ti porterò in quella direzione e in realtà non lo fa mai quello che vedi è quel momento in cui sei per un istante in un'espansione e poi arrivano le brutte abitudini della mente stai per andare nella storia e portarla avanti per mezz'ora e arriva la sensazione e dice no 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 eh mi ricordo com'era va bene e questo è la mente che fa queste cose la mente non è il nemico quello che è accaduto attraverso il posizionamento è che la mente è diventata divisa la mente ti dice fai questo quando lo fai la persona nella mente ti dice forse non avresti dovuto farlo è senza fine no gioca in queste due parti della mente nella divisione quindi dovrebbe essere chiaro che uno deve stare nel pieno riconoscimento di ciò che precede la mente se tu aspetti tutta l'informazione di come arrivare lì sei ancora in attesa della mente è molto semplice tutto semplice tu sai quando un pensiero è presente tu sai quando una sensazione è presente tutto quello che devi fare è vedere che cosa è presente quella sensazione o pensiero non so quando questa contrazione si è fermata ma si è fermata forse è molto tempo fa forse è molto tempo fa come dicevo quando vivi nell'espansione non c'è neanche la sensazione dell'espansione la sensazione dell'espansione è un movimento se collassi da questo ti ci puoi rimuovere dentro e così via arriva un momento in cui questo collassamento non accade più e quando riposi non c'è sensazione di espansione e non arriva neanche la danza nel suo posto trovi il corpo assolutamente appropriato per il momento e come esso agisce non dipende neanche dalle sensazioni più sottili decisioni da prendere credo che fosse Krishnamurti a dire è una scelta senza scelta quindi ovviamente vedere ciò che precede il gioco della mente è importante ed è strano che non siamo tutti assolutamente chiari su che cos'è questo perché è permanente è qui ora è qui prima che tu arrivasse a questo posto è nella tua macchina con te è con te quando sei dormire la mente in comparazione la mente in comparazione va e viene non è costante ciò che va e viene riguardo all'anno e rivieni della mente è costante non viene da nessuna parte non va da nessuna parte e se di nuovo vediamo questo e ci connettiamo con questo consciamente vedete è ovvio che quella costanza è la nostra vera natura non viene quando il corpo è nato non va da nessuna parte quando il corpo muore è qui costantemente è qui costantemente non è qualcosa da raggiungere è qualcosa che è già il caso tu sai che è un pensiero paro perché una frazione di secondo prima che il pensiero appaia tu sei ciò che è costante i pensieri appaiono con ciò che è costante e questo è riconosciuto da questo quando i pensieri spariscono è questa cosa in sé che riconosce la sparizione dei pensieri tu sei già questo quello o meglio questo per essere più precisi ciò che guarda questa bellissima stanza bianca è la costante non ha colore ciò che ascolta queste parole è la costante non li rifiuta, non li accoglie, non è influenzato da questo una parola o mille parole perciò più costante sono la stessa cosa non ti avvicinano a questo e non ti allontanano da questo non c'è un suono che ti avvicina a questo non c'è un suono che ti avvicina a questo tipo tu sei ciò che è costante tu sei ciò che è costante eterno guardi il gioco del tempo guardi il tempo il corpo che invecchia è per il fatto che sei inutabile che puoi vedere il corpo che cambia è per il fatto che sei inutabile che puoi vedere il corpo che cambia se tu non fossi qualcosa che non cambia mai non potresti vedere questo cambiamento a livello mentale non si tratta di andare in paradisi non l'hai mai lasciato provo a uscirne da questo una volta che l'hai vista non c'è neanche una di queste forme in questo momento non c'è neanche una di queste forme in questo momento in cui questa informazione non si riferisca direttamente a questa costanza non si tratta di ottenere niente si tratta di non vedere ciò che è presente ora non si tratta di essere non si tratta di diventare niente di essere non c'è niente assolutamente da aggiungere la tua esperienza di questo momento di aggiungere qualcosa che ti potrebbe permettere di vedere questo perché tu hai già tutto quello che ti permette di vedere questo ci sono tre cose richieste ci sono tre cose richieste un corpo quella cosa chiamata mente e questa terza cosa che non può dire che non può esser neanche descritta come una cosa che non può neanche nessuna cosa che non può tutta questa informazione è riferita a questo nulla E' questo nulla che guarda queste mani in questo momento, non uno, alcun altro, ma nulla. Tutte queste informazioni che sono la mente, cioè pensieri, sensazioni, vengono riferite a qualcosa che non è né un pensiero, né una sensazione. E di certo non è un pensiero. Quindi questa terza cosa, che noi pensiamo di aver perduto, ma che in effetti non può essere perduta. Puoi perdere una sensazione, puoi perdere una parte del corpo. Purtroppo un pensiero, ma non puoi certo perdere questo consapevole vita. Eppure la mente ci ha convinto che l'abbiamo perduto e che dobbiamo fare qualcosa per riprendere. E poi finiamo per costruire dei grandi edifici bianchi per ricordarci di questo. Potremmo stare seduti fuori sull'erba e avere questa stessa conversazione. In effetti, forse la piscina è il posto migliore. Ecco come vengono create le religioni. Noi perdiamo di vista quello che sicuramente siamo. E in qualche maniera siamo disconnessi. Apparentemente. Quella che è la verità è che stiamo semplicemente ignorando tutto questo. E è facile ignorarlo perché è nulla. Se fosse una cosa, con un colore, una forma, sarebbe facile ignorarlo. Invece questo è ciò che Shakespeare tentava di descrivere come essenza, trasparente come vetro. Siamo meno certi di ciò, di cui dovremmo essere più sicuri. E poi arriva qualcuno che ti offre una tecnica, un metodo, qualcosa per arrivare a questo. Come se non fosse già qui, non ha colore, quindi non lo troverai come colore, non ha una forma, quindi non lo troverai come forma. Non ha un sapore, quindi non lo troverai nel cibo, piantala di cercare. Cosa cosa, non lo troverai? Cosa cosa, non lo troverai nel cibo? Cosa cosa, non lo troverai nel cibo? Eh, a volte... A bove! Solo quando io negli anni le anni non riesce la stessa cosa. Cosa cosa? Cosa cosa? Cosa cosa? E allora? E allora? Non è neanche più sto granché. È solo un'esperienza differente. È differente da mangiare delle cipolle. A bove! Salta! Quindi qualunque cosa i sensi ricevono come esperienza non sarà quella cosa lì. che significa che cercare quello che stai cercando e che è ciò che ogni tecnica cerca di offrirti è una promessa vuota. Tu non puoi trovare questo come se fosse un'esperienza. Ma c'è la possibilità in tutte le cose che facciamo e non facciamo nel nostro processo di ricerca. E questo dubbio si insidia, come dicevo ieri. ti arriva un dubbio che ti dice forse non è nell'accumulazione delle esperienze. Più sesso, più denaro, più qualunque cosa. Mi piace il vino rosso. Dopo essere qui da otto, nove anni, so qual è la differenza tra un vino di merda e un vino buono. Che non è facile per qualcuno dall'U.K. perché tutto ciò che abbiamo nell'U.K. è quello che voi non trinca. Cosa non faccio per un inglese perché in Inghilterra noi abbiamo solo quel vino di merda che voi non vorreste mangi. Quindi, chiedete a Chandler. Questa è una buona, 18 pound per la bottiglia. Ti è un buono, 18 sterline alla bottiglia. Psss! In Italia lo chiamiamo aceto. Non c'è niente di strano con le esperienze. Tu stai molto meglio quando non cerchi nell'esperienza. Se tu sei impegnato a cercare nel tantra, non ti stai godendo una bella scopata. Io ogni tanto guardo i cani che scopano e noto che scopano e non fanno tanto. Se sono persone spirituali non si godono lo scopare perché i loro sensi di colpa religiosi impediscono di godersi quello che stanno facendo. E se sono persone spirituali non si godono perché fanno il tantra. Comunque in entrambi i casi quando quel momento che il sesso sottende a cui aspira arriva, in entrambi i casi lo perdono completamente di vista. Infatti è il momento dopo il sesso, quando non pensi al sesso, perché l'hai già fatto. Prima che la mente venga su e faccia altre storie. Come rispetto alla scorsa settimana? Come sono state rispetto alla scorsa settimana? Come si è piaciuto? Eh, ti è piaciuto? L'ho aperto completamente di vista. Quel momento di violazione. Puoi lasciare quella roba lì e lasciare che il sesso sia sesso, è più divertente. E questo è come viviamo, come viviamo. E noi stiamo parlando di tutto quello che facciamo. Tutto. Ecco. Com'è quando siamo a ricercare? Scusiamo in ogni cosa che facciamo. E il mio capo lo sbordo. Se restate al livello di tenervi per la manina, niente di più. Non sapevo avesse queste informazioni. Altrimenti andate fuori. Unitevi ai cani. Se vi ricordate quando eravamo bambini, io una volta ero un bambino. Tutto quello che fanno i bambini è giocare. Tutto quello che i bambini fanno, lo fanno per divertimento. Ho guardato le ultime settimane come Daisy, che ora ha quattro anni, è grande abbastanza per aiutarci a caricare il trailer. O a pulire la casa. E per lei è tutto un giocare. Vuol dire, Shika pulisce la casa tutto il giorno, ogni giorno. Ma viene da un luogo differente. Ogni tanto vede questa cosa e dice, Gesù, mia madre. In realtà non è sua madre, è lei. Non dare la colpa alla mamma. È solo un'abitudine. Quando eravamo piccoli tutto era divertimento, tutto era un gioco. E non è che giocavamo perché avevamo in testa un obiettivo. Quante cose fai senza attenderti quella roba lì alla fine come risultato finale? Si chiama ricerca. E se tu stai aspettando un'esperienza finale non sei presente a quell'esperienza in quel momento. perché la mente si divide, l'attenzione è divisa. Se sei un secondo nel futuro, in attesa di quello che avverrà, la tua attenzione non è pienamente qui. Non sei pienamente disponibile all'esperienza del momento. Quando riconosci che qualunque cosa avvenga attraverso la tua forma, avvenga da nulla, queste vecchie abitudini cadono. E senti questo in modo immediato. Noti che ci sono dei cambiamenti che avvengono. Stavo leggendo qualcosa da un libro di Tony Parsons. quando qualcuno gli ha chiesto quello che questa persona gli ha chiesto. Quando Tony è diventato non Tony, c'era l'idea di andare da qualcuno a chiedere perdono per esempio. è venuto su qualcosa del genere? La risposta di Tony è stata No. Semplicemente perché si è visto che non c'era niente da perdonare e nessuno che poteva fare quel perdono. Quindi la domanda era di nuovo. Quindi nessun senso di colpa? La risposta. No, nessun senso di colpa. La colpa come responsabilità è caduta molto rapidamente. In effetti, letteralmente, è tutta svanita in manotte. Ho una sensazione che colpa e senso di responsabilità cadono con rapidità per parecchie persone. E chi c'è di cui essere responsabili o colpevoli? E per cosa? Non sta accadendo niente. Quindi di certo quella è una vitivina che cade. E ci sono altre che a loro tempo cadono. Non puoi farle cadere. E non c'è una tecnica. Non c'è una pratica. Che ti può aiutare a lasciare andare qualunque cosa. perché queste idee, fin dal principio, sottendono l'idea che ci sia qualcuno che può farlo cadere. L'ultima cosa che qualcuno farà è lasciare cadere qualcuno. Questo è quello che di solito è accettato con la vita spirituale. Un corpo che va avanti con altri corpi, tutti con il loro senso del me. Impegnati a cercare da quel senso del me. Tutti impegnati. Avere esperienze, praticare delle tecniche. Cosa che li porterà all'illuminazione. Che è il cadere del me. Se tu cominci col piede sbagliato, ogni passo sarà il passo sbagliato. E questo potrebbe andare avanti per tutta la tua vita. La cosa migliore è non prendere il primo passo. Io devo meditare. Indovina chi sarà lì in ogni secondo della tua meditazione. Indovina chi è che raggiungerà quel risultato ultimo della tua meditazione. E indovina chi è che non alterrà lasciare cadere finale nel me verso l'io. Lo vedete nell'arena spirituale. Ego, solo che sono ego spirituali più grandi. Io ricordo tanti anni fa, guardavo un uomo indiano molto semplice. Il suo nome era Satyananda. Il suo nome era Satyananda. Lui era con un guru che si chiamava Guru Maharaji. e eravamo tutti seduti in questo grande festival. E eravamo tutti seduti in un grande festival. Era praticamente il Guru Pooja inglese. Questo tizio era completamente fuori di velone per via degli acidi. Era proprio da un'altra parte, in un'altra storia. e si stava divertendo. E improvvisamente ha incontrato Satyananda. E dopo avermi guardato per 30 secondi, ha detto Satyananda Io sono più alto di te. Io sono più alto di te. Che era vero, era così più alto di lui. E Satyananda con gentilezza gli ha fatto così sulla spalla e gli ha detto Per Satyananda c'era veramente pochissimo che era rimasto di lui. E era solo un piccolo mio attaccato al suo maestro. Tutto quello che è a fare nella tua vita è un'apparizione che appare a partire dal tuo stesso essere nella vita. Se c'è un attaccamento a qualunque cosa anche se è una granellina di sabbia anche se è una granellina di sabbia non vedrai la realizzazione dell'uno. Non vedrai la realizzazione dell'uno. e così via. Tutte queste cose devono cadere. Ho detto questo prima l'unico che ti porta a casa sei tu. Certamente non dirai che tu immagini di essere in mezzo della tua ricerca. Ma quando la ricerca finisce è chiaro che tu non sei quello che è solo l'immagine che hai di te. tutto allora ogni granello di sabbia e ogni guru hanno servito il loro scopo. Ti ha indicato la strada verso casa. è il tuo dito sai che ti indica a casa. Ogni cosa è il tuo dito. Ogni oggetto di questa stanza in questo istante è stato portato in essere dal tuo vero sé. Tutti i colori di questa stanza imitano qualcosa che di per sé non ha colore. Tutte le varie forme che creano questa stanza e indicano ciò che di per sé non ha colore. Quindi è sempre il tuo agire dal principio alla fine. se rimani incastrato con l'oggetto non vieni mai a riposare nel fatto che tu sei il vuoto, sei la sergente di tutto quello che appare. Ci sono delle domande? una domanda sì. una domanda sì. una domanda sì. una domanda sì. Potremmo dire che le parole indicano questo. e questo è il loro microscopo. un'unica parola lo può fare. o milioni di parole. Allora la mente non è capace la mia e ti colpe tutto. la mente non riuscirà mai a cogliere questo. perché la mente non è capace la mente. perché la mente non potrà mai comprendere questo. perché la mente precede questo. Scusami perché questo precede la mente. Scusami perché questo precede la mente. il suono non può mai esprimere il silenzio. il silenzio produce i suoni ma i suoni non producono il silenzio. quindi il comprendere tutto questo non è neanche qualcosa di necessario. qualcuno potrebbe entrare in questa stanza e sedersi. e sentire una sola frase. la loro attenzione potrebbe tornare pienamente a casa. qualcun altro potrebbe continuare a venire a questi incontri. e deve unire magari questa stessa frase milioni di volte. mi sono anche chiesto questo. o se ci vuole. il punto è che nessun suono è personale. è solo il silenzio che fa rumore. è solo il silenzio che impara su di sé. che si indica. che cessa di ignorarsi. succede questo anche in un livello energetico. che non è forse neanche un capire con la mente. né un capire intuitivo. in un livello energetico. io direi che a tutti i livelli continuamente. a tutti i livelli continuamente. è qualcosa che indica il fatto che c'è una non esperienza che mi è consapevole. l'esperienza del pensare. è molto diversa dall'esperienza del sentire. in entrambi i casi ci sono livelli più sottili e più grandi di comprensione. ci sono differenti livelli di sensazioni e però qualunque sia in un certo senso lo scopo di qualunque sia la sensazione il suo vero scopo è indicare questo che non è una sensazione. potresti avere qualcuno che vive per esempio a un livello di comprensione più elevato. avere qualcuno che è un pensatore più grossolano. il fatto è che qualunque cosa sia presente c'è qualcuno che è presente a quel pensare. quindi a tutti i livelli energeticamente e in tutti i modi tu sei sempre bombardato con questo messaggio fino a che è udito. al punto che lo vedi. la vita è il maestro, è l'indicatore. quando dico la vita dico la manifestazione, il gioco, l'azione. ciò da qui viene che mi indica è sempre costantemente la base, il vero sé. quindi una cosa può fare tutto. o in alcuni casi un milioni di parole è necessario. grazie 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 grazie